Voi vi chiede accostati al monte di Sio, alla città del Dio vivente. All'assemblea dei primogeniti scritti nei cieli, al riegiudice di tutti gli uomini, al mediatore della nuova alleanza e al sangue di espersione e dalla voce più eleguento di quello di Avela. Lasciatevi purificare dal sangue dell'agnello. 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 E' soltanto l'acqua che sgorga dal costato di Cristo, l'acqua dello Spirito che può purificarci dei nostri peccati. E abbiamo bisogno di questa purificazione per accostarci a Dio ed entrare in comunione con Lui. E allora nel segno dell'acqua riviviamo questo mistero, fratelli e sorelle. E chiediamo al Signore una profonda purificazione che rinnovi la nostra vita. Una profonda coscienza di non essere come gli altri, ma di essere il popolo di Dio, il popolo della nuova alleanza, il popolo che conosce il Signore e mette in pratica la legge del Signore. Degna di benedire quest'acqua, da questo dono della Tua creazione, Tu hai fatto un segno della Tua bontà. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il Tuo popolo dalla schiavitù. Per stanziare la Tua sete, con l'immagine dell'acqua viva, i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che Tu intendevi offrire agli uomini, nell'acqua del Giordano, santificata dal Cristo e inaugurato il sacramento della rinascita, che segna l'inizio dell'umanità nuova. Ravvive in noi, Signore, nel segno di quest'acqua il ricordo del nostro battesimo, in cui fummo purificati dei nostri peccati, in cui ricevemmo la vita nuova dello Spirito, perché possiamo unirci all'assemblea gioiosa di tutti i nostri fratelli. Battesate nella Pasqua del Cristo nostro Signore, che vi verrà in giro nei secoli dei secoli. Amén. Canto numero 12 Il Signore sia con voi Il Signore sia con voi In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli In verità, in verità, in verità vi dico Se chiederete qualcosa al Padre nel mio nome Finora non avete chiesto nulla nel mio nome Chiedete o cerrete perché la vostra gioia sia piena Queste cose vi ho dette in similitudini Ma verrà l'ora in cui non vi parlerò più in similitudini Ma apertamente vi parlerò del Padre In quel giorno chiedete nel mio nome In quel giorno chiederete nel mio nome Sono uscito dal Padre Sono uscito dal Padre e son venuto nel mondo Ora lascio di nuovo il mondo E vado al Padre E vado al Padre Parlaci o Signore Gesù Parlaci apertamente del Padre Parlaci apertamente del Padre E noi siamo contenti Ma come puoi parlarci del Padre Ma come puoi parlarci del Padre Se noi non comprendiamo quello che Tu dici E allora apri la nostra mente All'intelligenza della Tua parola E mandi il Tuo Spirito dentro di noi Perché comprendiamo la Tua parola Che è parola di verità e di vita per noi Parlaci del Padre Tu ci dici questa mattina Che il Padre vi ama Questa è la grande rivelazione Che tu ci dai Perché la barriera Che ci separava dal Padre Il peccato è stato distrutto Hai pagato Tu Per tutti gli uomini Per tutti gli uomini che credono in Te Non c'è più questa barriera Per cui direttamente Potete parlare col Padre Potete ascoltare la Sua voce Potete rivolgere a Lui La vostra preghiera Perché voi avete creduto in me E mi amate Il Padre vi ama Vi ama perché voi amate me Perché voi accettate me Che sono l'inviato dal Padre Che sono l'inviato dal Padre Per la vostra salvezza Accettatemi Amatemi E i cieli si apriranno Il Padre aprirà il suo cuore a voi Perché il Padre mi ama E si amate a me Il Padre è contento Ed è pronto a darvi tutto quello Che voi chiedete Non chiedete più Nel mio nome A me Ma chiedete al Padre Direttamente nel mio nome Il Padre vi ascolta Qualunque cosa voi chiederete Nel nome mio al Padre Il Padre ve la darà C'è una relazione adesso Tra voi e il Padre Io ho tolto la barriera Chi vive in me È in relazione col Padre Chi vive in me È già In unione con il Padre In comunione con il Padre E può domandare al Padre tutto È necessario però vivere in me Accettare me Credere in me Amare me In me Il Padre riposa In me Chiunque Di voi Può vedere il Padre Può sentire il Padre Può ricevere tutto dal Padre Chiedete e avrete O Signore Gesù Noi crediamo fermamente E rinnoviamo questa mattina Questa nostra fede Che Tu sei venuto dal Padre Per salvarci Il Padre ci ha amato Di amore eterno E non ha permesso Che noi Benissimo Perché siamo Creature sue Ti ha mandato dal cielo A cercare le pecorelle Smarrite E lui Si è radunati Si è offerto per noi Si è svenato per noi Ha dato la vita per noi E siamo diventati Suoi Una cosa sola con Lui Perché il Suo Spirito è dentro di noi O Padre Ti ringraziamo di quest'opera meravigliosa Che Tu hai operato nel Figlio E adesso siamo Tuoi O Padre Noi siamo I Tuoi figli Che a buon diritto Li possono gridare Abba Padre Santo Ci hai mandato il Tuo Figlio E nel Tuo Figlio Ci hai dato lo Spirito del Figlio E possiamo gridare a Te Direttamente Abba Padre Non abbiamo bisogno di altri intermediari Perché è nel Tuo Figlio Che noi siamo Ed è lo Spirito del Figlio Che grina al Padre E tutto quello che lo Spirito del Figlio Grina al Padre Lo tiene Fratelli e sorelle Si tratta Di entrare per la fede Per una fede profonda E vitale nel Figlio Di vivere Queste intimità col Figlio Si tratta di lasciare libero lo Spirito Che è lo Spirito del Figlio Di chiedere al Padre per noi Tutto quello di cui noi abbiamo bisogno Noi non sappiamo cosa chiedere Abbiamo bisogno di tutto Però è lo Spirito Che diventa interprete dei nostri veri bisogni Lasciamo libero lo Spirito di Gesù Di agire in noi E di rivolgersi al Padre Abbiamo fiducia cieca nello Spirito Perché egli conosce Le intimità di Dio E l'intimità di noi Egli dimora nel Padre Megli dimora nello Spirito dell'uomo Che crede in Cristo Gesù Lo Spirito Santo in noi Conosce le nostre profondità Conosce i nostri bisogni Lasciamo che sia lo Spirito del Figlio Lo Spirito che si è innestato in noi Nel nostro Spirito A chiedere al Padre Quelli di cui noi abbiamo bisogno Per la salvezza eterna E per il cammino in questo mondo Per il nostro cammino Che è sempre diretto Alla Patria Celeste O Spirito di Dio Tu conosci le profondità del Padre Tu conosci le nostre profondità Noi ci affidiamo a Te O Spirito di Dio Prega dentro di noi Fa che noi direttamente Ci rapportiamo al Padre Fa risuonare dentro di noi L'amore del Figlio La voce del Figlio Metti il tuo Spirito Santo Dentro di noi La va Che propria la relazione Tra figlio e padre Nacci la coscienza Di essere il Figlio di Dio I figli di Dio Nel Figlio di Dio Accendi i nostri cuori Immergici nella tua luce Crea in noi la preghiera Quella preghiera che ci immergi in Dio E ottiene tutto da Dio Fratelli e sorelle In questo momento Il Signore ci invita Ad alzare la voce E chiedere allo Spirito Santo Siamo nella novena Dello Spirito Santo Senza di Lui Nulla noi potremo comprendere Del mistero di Cristo Senza di Lui Non possiamo immergerci Nel mistero di Cristo Senza di Lui Senza lo Spirito Noi non possiamo chiedere Al Padre Non possiamo rapportarci al Padre Egli ha mandato Lo Spirito del Figlio dentro di noi Perché noi gridiamo Abba Padre E possiamo ottenere Nel Figlio Tutto quello di cui noi abbiamo bisogno O Spirito di Dio Scendi in questo momento Su di noi O Spirito Paraclito Scendi su di noi In questo momento Metti dentro di noi La preghiera Rivestici di luce O Spirito di Dio Risvegli in noi I doni matesimali Perché ci sentiamo Figli di Dio Risvegli in noi La coscienza Di essere i redenti I figli di Dio O Spirito del Signore Scendi su di noi Tutti alzati Gridiamo Invochiamo lo Spirito Padre 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 E con Dio Padre In noi Il tuo Spirito Si spacchino i cieli Scendi il tuo Spirito Su di noi Padre Invochiamo il tuo Spirito E Gesù che grida Scendi il tuo Spirito Scendi il tuo Spirito Padre Grazie a tutti. 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 Spirito di Dio scendi su di noi. 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 Tutti insieme. Spirito di Dio scendi su di noi. Spirito di Dio scendi su di noi. Spirito di Dio scendi su di noi. Spirito di Dio scendi. Spirito di Dio scendi su di di noi. Scendi su di di noi. Spirito di Dio scendi su di noi. Spirito di Dio scendi su di 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 di noi. O santo, in e all'unità di noi. Tutti insieme dobbiamo invocare il Signore. Lo spirito della divisione via da noi. Venga lo spirito dell'unità e dell'amore. Ogni legione sia sconfitta, sia buttata giù in fondo al mare. Ogni spirito di divisione esca e venga lo spirito di unità in mezzo a noi. Noi non siamo divisi, siamo uno con il Padre e il Figlio, nello Spirito Santo. Spirito di guarigione scendete di noi. Spirito di liberazione scendete di noi. Spirito di guarigione, liberci da tutte le malattie. Spirito di liberazione sciogli le nostre catene. Siamo figli nuovi, figli di Dio, rinati creature nuove. Spirito di guarigione, Spirito di liberazione. Spirito di liberazione, Spirito di libertà scendete di noi. Spirito di liberazione, Spirito di liberazione. Questa è la vera rettita, la mia gioia sia sicura. Qui nei cestini ci sono tante e tante suppliche. Te le presentiamo tutte, Signore. Ci sono madri di famiglia che reclamano il ritorno dei mariti. Ci sono figli che gridano perché i genitori sono separati. Signore salva le nostre famiglie che sono in pericolo perché il germe della corruzione, il germe della disgregazione è entrata nelle nostre famiglie. E fa, oh Signore, che tutti i valori tradizionali tra i quali è il valore della famiglia sia tutelata dal nuovo governo che a quanto pare ha soppresso il ministero della famiglia per dare luogo un altro ministero della solidarietà sociale. Signore, questa avvisaglia non è buona. È avvisaglia di una cultura laica che non va bene per noi. Signore, ti chiediamo che la nostra patria non subisca ulteriori danni nel campo della cultura, nel campo della formazione, nel campo della giustizia sociale, soprattutto nel campo della famiglia e dell'educazione. Signore, ti chiediamo per la nostra patria. Un governo buono, un governo saggio, un governo che miri non tanto o solamente al progresso materiale, ma anche alla formazione spirituale, perché senza lo spirito noi siamo sulla carne. Senza lo spirito noi non abbiamo altri traguardi se non negli orizzonti umani. E quando si oblitera l'idea di Dio e si vada una cultura atea, tutti i grandi valori cristiani crollano. Signore, ti chiediamo che un'ondata di luce scenda sul nuovo governo, che i buoni che sono nel governo o entreranno nel governo siano capaci di recepire un'ondata luce e di opporre resistenza all'inverenza del male che si profila all'orizzonte. Un male sudolo, quelle che penetra le coscienze, quelle che oblitera l'idea di Dio, che fa così dei figli figli di Dio, figli di uomini, dei figli del cielo, figli del mondo. Signore, ti chiediamo in questa mattina per tutti i cari i presenti lo spirito di saggezza, lo spirito del santo timore di Dio, lo spirito della legge del Vangelo. E ti chiediamo anche la guarigione spirituale e fisica di tutte le nostre famiglie, dei nostri familiari, parenti e amici. E ti ringraziamo fin da questo momento di quello che farai e di quello che hai fatto. Già ci sono diverse guarigioni. Tu lo hai detto, Signore. Quando due o tre sono riunite nel mio nome e sono d'accordo tra di loro, se ne possono andare tranquilli, perché quello che hanno chiesto è stato già accordato. Ed è per questo che noi non facciamo che ringraziarti di quelle che già hai accordato, delle guarigioni che già hai operato in mezzo a noi e di quelle che opererai durante questa tanta liturgia. Glorie, glorie e onore a te, oh Signore. zero si si ci che Quien è te misa razza? 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 Lo dice Gesù, non lo dico io. Quien è te misa razza? Quien è te misa razza? Quien è te misa razza?